Hey yo what's good everyone benvenuti nel mio canale questo è Mauro che vi parla e oggi oggi ragazzi vi porto una bomba eh questo non l'ho mai sentita però leggendo i nomi è una bomba eh sneak non lo conosco però visto che è greco poi abbiamo capoplasa che è di Napoli noisy Albania e quel pequeno rappresentando Milano colpo grosso al drago rosso no questo me lo invento io no ma qui ci spacchiamo raga noisy non lo vedete voi perché purtroppo ho fatto una reaction una settimana fa ed è stata bloccata maledetto sia il copyright amen e niente sto cercando in tutti i modi di farvela vedere perché mi ha spaccato davvero di brutto questo è considerato uno dei migliori in Albania almeno a quanto mi avete detto voi poi ho sentito il pezzo è una cosa fuori dal mondo quindi ci credo ci credo assolutamente capoplasa vabbè ci piace ci piace ci piace ci piace un po' di trap che ci anima sneak non lo conosco vabbè gue gue non delude mai gue non delude mai gue non delude mai quindi dai non voglio non voglio dilungarmi troppo in chiacchiere andiamo subito a spaccarci ma ci sarà nel sottotitolo ah purtroppo no ok così schifo con la sigaretta qui è un po' di scopo con la sigaretta via che ascolto io sono la bianca sono io sono io sono io sono io sono io sono grazie a tutti Non mi dispiace, 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 dobbiamo reagire anche al rap greco, eh? Poi abbiamo fermato anche in una buona posizione, eh, voi lo vedete piccolino, qui si vede più grosso. Però non mi dispiace, eh, che poi se volete un segreto, eh, quando magari andate all'estero e volete capire se uno, in che lingua sta parlando qualcuno, se sentite qualcuno parlare con l'accento spagnolo della Spagna, con la S, che fanno quel suono lì con la S, come si dice a Zeppola, non so come si dica il termine esatto, e non capite nulla di quello che stanno dicendo, stanno parlando greco, ve lo dico, come sentire uno spagnolo che parla in una lingua strana. E' quello il greco, ve lo dico una cazzata, va bene, però, boh, quello mi dà l'impressione, perché io capisco meno lo spagnolo, quindi dico, ma, ma faccio capire che cavolo stanno dicendo? Poi dico, ah, ma possono essere greci, ok, ok, ok. E' quella, quella la, il mio processo mentale che vado, quando vado in giro. E' me sti Marbella, vlevo fiumicassi, o mònos fu v' ghii abo tis ergadikassi, big snake, Perimeno' gian to colpo grosso, osso trecho ta Valcania, mi lanet tosso, Kano flex, gian ti ta kèrdi sa me na sto dromo, 10 chanters, gian ti mu axizzi, vieno a p di duomo. Butterfly doors, kame new whip, osso i rappers din Eλλάδα, kano backflip, Alicchiavo, the best, no, Kali, sto scholeo, muna, dealer, sato, madflip, Collosa di Garde B, amma, achi, sta supero, di geni, viaglio e vi, ehi, Nadevano, snek, sto IG, vieno gli altri, posso, gane, imme, certify G, Spero vada bene questa pure, fanno pulo le montature, tu sei figlio. Michele, non è stato male, eh? Complimenti, complimenti, snek. Malakas, malakas, forse è l'unica parola greco che sono, Dove vuol dire, bene, 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 no? Ah, ok, scusate, 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 eh? Non volevo portare offese, non volevo portare offese Quando ho detto che Capoplasa è napoletano invece di Salerno, eh? Non volevo portare offese, assolutamente, non lo sapevo. Che è successo? Qui facciamo stronzate, eh? Bello della diretta, scherzo, non è una diretta. Salerno, baby, fino al centro, fino sul Naviglio, guarda come brilla, yeah. A quella gli faccio un fischio, eh. Dolce, dolce come caramelo. Io non gli aiuto, ma ce l'hanno sopra la collana. Tatuaggio addosso, rappresentiamo questa savana. Baby, cederezza è festa. Faccio ben col pisco, più di un boss solo rimani a terra. Giù è traplazza tipo mafia. Meglio che sia attento, che qua giù tira una brutta aria. Bad boy, cresciuti tra palazzoni grossi. Bad bitch, all i star, mi addosso a tutti i cossi. Sentty, ony barra scotta, come grossa. Stressi, me i okers, me tick, olla tua roba again. I don't want a time with you. I came to give you a card. I don't want a pistol in your chest. You know if you don't do it like me. They run like a df. You know if I hit the button, when I just have a key. I don't want a time with you. If you want a pistol in your chest, I don't want you. I don't want a pistol in your chest. You say if you don't do it like me. You know if I do it like me. Sarebbe figo capire quello che dicono, eh? Sarebbe figo, cazzo. Purtroppo questi fit internazionali dovrebbero... Eh, però, come fai, come fai, come fai, come fai? Cioè, ci sono troppe lingue. O metti in inglese, tutto in inglese. Forse l'unica sarebbe mettere tutto in inglese, almeno può capirlo un pubblico più ampio. O metti in inglese, tutto in inglese. Anche io avevo quel fisico là, eh? Anch'io avevo quel fisico lì prima. No, quello ero su Instagram. Faccio il grano, resto street come Ibra. Così tanto, frate, che dovrei cambiare il nome in Iban. Rompo le leggi. Meno male, mini, bitch a Santorini. Con un culo grande, rompe i leggings. Bitch quanto mi costa. Volevi il coccodillo. Piangi lacrime di coccodrillo sulla mia lacosta. Ti pichiamo in testa se... Oh mio Dio, no. Ma che dici, guè? Oddio. Si sta andando giù pesante. Aspetta, aspetta, aspetta. Cazzo, vorrei aver avuto addosso la maglia della lacosta, come l'ha detto. Mini, 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 bitch a Santorini. Con un culo grande, rompe i leggings. Bitch quanto mi costa. Volevi il coccodillo. Piangi lacrime di coccodrillo sulla mia lacosta. Piangi lacrime di coccodrillo sulla mia lacosta. lacosta, oh mio Dio. Che bestia. Volevi il coccodrillo. Piangi lacrime di coccodrillo sulla mia lacosta. Tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa. E' sceso il campo, guè? Tutti a casa, tutti a casa. Ti pichiamo in testa, senti din-dan, come disco a red. Miro in fronte, palla rossa, infrared. G-U-E. Milan Finest, ho un bordello in tutti i sensi, nei direct. Flow mafia, Mediterraneo più Balcani. La gente che si affaccia dai balconi, sulla barca e pizza. Prende un jet per Napoli, soltanto per ordinare una pizza. Prende un po' per metra, lui, oh. Mi che si amo. Ma chi è Enzi quello? Ma è sicuro quei baffetti? No Minchia che bomba Che bomba ragazzi Che bomba Che bomba Che bomba Questa l'ho trovata per caso Perché mi ricordo che Noisy me l'avevate Consigliato con Capo Plaza Ho trovato questa per caso Totale coincidenza Abbiamo trovato una bomba Mica da ridere Questa è del 2019 Quindi se ci stanno altre canzoni Che spaccano Che volete che reagisca Anche di questo Sneak mi piace Grecia nella casa raga Noisy Sperate che non me li blocchino più Perché di solito quando sono troppo famosi Oppure hanno un'etichetta importante YouTube fa la festa YouTube fa la festa con le reaction Mi bloccano tutto Mi bloccano tutto Poi vengono sbloccate Ovvio Alla fine Cioè quasi tutti i video Vengono sbloccati Dopo che vengono bloccati Per copyright Ovvio che io non ci guadagno nulla Però Vengono sbloccati Ma almeno L'importante è farli vedere Alla fine Cioè Non me ne frega niente Cioè non è che posso monetizzare Tutti i video Però So che non me ne frega niente Ma io sto qui a parlare da solo Quindi Mi diverto Mi diverto così Va bene raga Abbiamo finito anche questa Adesso andate subito nei commenti A dire che cosa ne pensate Fatemi sapere quali altre canzoni Volete che ci faccia la reaction Lasciate un bel like assolutamente E non dimenticatevi di iscrivervi al canale E attivare le notifiche Ci vediamo alla prossima Bella